In Piazza Castello, quindi nel cuore di Torino, c'era anche Marco Liccione, che è il leader del movimento La Variante Torinese, con il quale è venuto Marco. La scorsa settimana ci siamo anche mandati reciprocamente in Napoli. È stato simpatico. È stato uno scontro. Da qui è venuto il fatto, ha mandato qualche amico sotto casa. No, però, siccome penso che confrontarsi anche con chi è lontano dalle proprie idee sia importante, perché uno dei problemi di questo paese è anche ciò che ormai non vogliamo più ascoltare anche gli altri. E questo secondo me è un errore comunque. Bisogna ascoltarli, poi magari convincerli, però non possiamo ergere anche qui tra di noi muri. Allora, lei sapeva di questo? Cioè, quello che non mi piace, diciamo, è là dentro, c'erano delle svastiche, no? Certo. Che è un'esasperazione sempre di questo simbolismo. Lei lo sapeva o no? Perché lei era lì. Diciamo che le persone sono arrivate a un limite che non può essere più tollerato. Nel senso che io quando viaggio in mezzo alle persone, nelle piazze, negli occhi vedo la scritta, ho fame. Sono disperato. Nessuno mi sta aiutando. Nessuno mi sta ascoltando. È quello il problema. Perché abbiamo visto le tv che erano distanti da noi. Queste piazze sono piene da mesi, non da giorni. Sì, però lo Stato italiano, lei lo timbra con una svastica. È un po' esagerato, lo riconosco, però sinceramente è un po' esagerato. Un po' lo toglierei. È un po' esagerato. Un po' lo toglierei. Però sinceramente io penso che prima si deve vivere quella situazione, signora Muri. No, no. No, la situazione del popolo la si deve vivere. Perché qui i giornalisti stanno in una campana di vetro, ok? Che non vanno in mezzo alle persone a dire come state, che bisogna... Non tutti i giornalisti, c'è molti giornalisti che stanno nelle piazze e ascoltano, perché noi dobbiamo ascoltare. Sì, infatti Cristina l'ho conosciuta. No, a parte Cristina, non è che facciamo nel graduatorio, bisogna ascoltare. Io le svastiche le terrei fuori, cioè non le paragonerei. Però scusi, signor Gileppe, perché allora queste persone decidono, accomunano quello che sta succedendo ai fattacci di 80 anni fa, ok? C'è sicuramente un qualcosa nel comportamento a livello di discriminatore verso la popolazione che viene accomunato. Io personalmente non ero in quella piazza, ma posso capire chi accomuna in certe situazioni a livello discriminatorio. nazismo, l'avete conosciuta, perché mi sembra che ci sia un'ignoranza di fondo, culturale. Tenetevi lontano altre cose, nazismo. Sempre con un inizio, è partita così anche 80 anni fa, è partita discriminando solo l'entrata in alcune situazioni, in la scuola, in alcuni locali e poi dopo è sfociata in quello che è sfociato. Quindi io capisco che a volte si faccia, dato che la storia comunque è ciclica, si faccia in questo caso un paragone con quello che è successo 80 anni fa. Cioè quindi voi esibendo la svastica richiamate l'attenzione? No, noi non esibiamo niente, io sto dicendo queste persone, sto commentando i fatti, sto dicendo che queste persone hanno accomunato una situazione discriminatoria a quello che è successo 80 anni fa. No, non è paragonabile, cioè lei deve distinguere. Attualmente no, siamo ancora in tempo, sono ancora in tempo a fare dei passi indietro e per questo tutte queste persone in tutta Italia, per quanto siano una minoranza, ma diversi milioni non sono una minoranza in Italia, sono ancora in tempo a fare un passo indietro e non fa sfociare se può essere qualcosa.